Al giro di Boa del 2022 Trani si conferma capoluogo regionale della raccolta differenziata fra i comuni capoluogo di provincia, con una percentuale del 74,64%. Nel sesto mese dell'anno la città ha fatto anche registrare un calo della produzione pro capita dei rifiuti, scesa dal 42 al 40 kg per cittadino. Nella prima metà dell'anno la città ha prodotto quasi 13 milioni di kg di rifiuti, di cui oltre 9 milioni e mezzo sono stati differenziati e la parte restante è conferita agli impianti di discarica. Per quanto riguarda le voci più dettagliate, a giugno Trani ha prodotto 240.000 kg di carte e cartoni, 188.000 di vetro e 57.000 di plastica. Molto alto è il volume dei rifiuti stradali, tra quali conferite le postazioni di cestini e quelli spazzati su strada. E suolo pubblico, in totale oltre 620.000 kg. A Trani la raccolta differenziata porta a porta si tiene a pieno regime da novembre 2020 e subito da quel mese ha fatto registrare numeri molto alti, senza mai scendere sotto il 70%, ma piuttosto sforando in alcune occasioni l'80%. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione comunale non soltanto è stato raggiunto, ma si è consolidato nel tempo. A favorire questo risultato un servizio sempre più capillare da parte dell'azienda partecipata Amiu, che fino a settembre sta vedendo i suoi operatori raccogliere le frazioni già a partire dalle 4 del mattino. A questo si aggiunge il supporto di due isole ecologiche e mobili, rispettivamente in via Superga e in via Andria, e del centro comunale di raccolta di via finanzieri aperto anche la domenica, sempre più largamente utilizzato dai cittadini per il conferimento dei rifiuti anche ingombranti, portati lì con i propri mezzi o con il ritiro su appuntamento a domicilio organizzato da Amiu. Ad Andria invece la percentuale della differenziata è aggiornata a maggio e raggiunge il 61,7% con 37 kg di rifiuti per utente, mentre a Barletta, sempre nello stesso periodo, la percentuale del 68,31% con una produzione pro capite di 37 kg. Nella città della disfida inoltre le ormai note fototrappole posizionate in varie punti della città puniscono gli sporcaccioni. L'ultima segnalazione in ordine di tempo è avvenuta ieri quando è avvenuto il lancio olimpionico dell'immondizia da parte di un uomo in sella alla sua bici. Per quanto ci riguarda, stigmatizzato l'amministratore di Barsa Michele Cianci, si tratta di un criminale qualsiasi, sono sicuro che anche la polizia sarà dello stesso avviso, certi di una veloce identificazione.